Per i fratelli Mario, l'idraulica è un gioco Non siamo come gli altri, per noi ci vuole poco Se il rubinetto perde, chiamaci immediatamente Che lavoro straordinario, siamo i fratelli Mario! Grazie fratelli Mario! Sembra che l'unica cosa che non avete prosciugato è il mio conto in banca! Per un super servizio, chiama subito Super Fratelli Mario Idraulica al 929 55 Mario o trovaci su internet al sito sfmidraulica.com